Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Panda di ladri prende di mira due studi dentistici a cattabrighe di Pesaro rubati oro per protesi, denaro e computer Viene colto da malore mentre guida l'auto per andare a prendere il figlio a scuola e si schianta contro il muro di cinta della caserma dei calabinieri Rubava biciclette e le rivendeva su Facebook, denunciata una donna Lunedì si parte con un mini dragaggio del porto di Fanno Amarezza invece per la mancata bandiera blu, all'Ido e l'Arzilla ma nessun problema di palmeabilità Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Il telegiornale si apre con la cronaca e il racconto di un paio di furti messi a segno in due studi dentistici a cattabrighe di Pesaro Hanno sfondato la porta d'ingresso e poi si sono introdotti nello studio dentistico in via Basento a Cattabrighe di Pesaro E' accaduto la notte scorsa in una palazzina a un piano dove i ladri si sono diretti verso la cassaforte L'hanno smurata e hanno asportato le attrezzature che conteneva tra cui l'oro utilizzato per le protesi dentali ad accorgersene questa mattina il proprietario dell'immobile che ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine C'era la porta spalancata del laboratorio e una volta entrato ho visto nella prima stanza in poche parole la cassaforte smurata Che cosa conteneva? Ma conteneva poche cose di valore Gli abbiamo dato un valore oltre 700-800 euro di danni insomma tra la porta, la cassaforte e quello che c'era all'interno Sono stati anche nel laboratorio che è adiacente? Sì, proprio sono entrati da lì poi hanno fatto un po' tutti quindi hanno fatto lo studio dentistico e hanno fatto l'ambulatorio del dottore Silvi Il proprietario ha subito denunciato il furto ai carabinieri di Pesaro ma l'assenza di telecamera, circuito chiuso non agevolerà il lavoro degli inquirenti C'è qualcuno che ha sentito visto qualcosa? Niente perché l'unico inquilino che abita in poche parole non c'era e non è stata neanche forzata la porta I ladri la notte precedente avevano già preso di mira un altro studio dentistico a circa 300 metri di distanza in strada della Romagna secondo la testimonianza di un vicino che ha sentito dei rumori i malviventi si sono introdotti poco prima delle 23 anche qui hanno forzato la porta d'ingresso e rubato un computer e circa 700 euro in contanti I carabinieri di Fano invece hanno denunciato una donna di origine campana che rubava biciclette e poi le rivendeva in una pagina Facebook Con la bella stagione riprende la caccia ai ladri di biciclette e grazie alla segnalazione di un cittadino una donna, 43 anni, di origine campana è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione Il tutto è iniziato quando tempo fa una signora si è rivolta ai carabinieri di Fano per denunciare il furto della sua bicicletta Qualcuno l'aveva sportata nella notte da Viale Caeroli tranciando la catena Poi qualche ora dopo la donna è ritornata in caserma sostenendo di aver visto la propria bici in vendita tramite un annuncio pubblicitario in un gruppo chiuso di Facebook utilizzato dalle mamme fanesi per rivendere piccoli oggetti Non ne aveva la certezza ma la bicicletta dell'annuncio sembrava proprio la sua Tra l'altro a fronte di un valore di circa 250 euro il post parlava di un prezzo di vendita pari a 50 Un utente poi si era mostrato interessato all'annuncio e la proprietaria lo aveva contattato in privato per comunicargli i suoi sospetti Così insieme hanno organizzato un appuntamento ma concordato anche con i carabinieri Giungono tutti sul luogo stabilito uno stabile in via Fabio Filzi a Fano e inizia la contrattazione Appena il veicolo è stato condotto fuori dall'ingresso dell'abitazione i militari appostati poco lontano sono intervenuti bloccando la compravendita In seguito dalla perquisizione della casa si è scoperta anche la presenza sul terrazzo di altri mezzi e pezzi di ricambio Quell'oggetto della contrattazione è stata restituita alla legittima proprietaria mentre per le altre, tutte sottoposte a sequestro si stanno verificando le recenti denunce di furto I carabinieri stanno ricostruendo le compravendite effettuate dalla 43enne e sono molte le persone ignari e acquirenti che si stanno presentando in caserma Dopo il tantan passato tramite social network infatti hanno preferito chiarire la propria posizione ed evitare conseguenze di natura penale per incauto acquisto o nei casi più gravi per concorso in ricettazione Nel frattempo si stanno approfondendo anche le posizioni dei componenti della famiglia della donna responsabile della commercializzazione di bici a filiera corta dal furto all'immediata rivendita Insieme a lei infatti vive un compagno e un nipote minorenne affidato alla zia Il ragazzino già in passato si è reso protagonista di fatti analoghi ed è sempre scampato ai rigori di legge grazie alla sua giovane età Quella di oggi è stata una giornata segnata da diversi incidenti stradali Il primo intorno alle 13, poco dopo le 13 a Marotta di Mondolfo una 56enne del posto mentre stava andando a prendere il figlio a scuola a bordo della sua auto è stato colto improvvisamente da malore L'uomo ha prima urtato un paio di vetture poi si è schiantato contro il muretto di recinzione della caserma dei carabinieri di Marotta Considerate le condizioni dell'automobilista i sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona Il 56enne ha riportato un trauma toracico sul posto anche la polizia municipale per i rilievi di legge Un altro brutto incidente invece è avvenuto nel primo pomeriggio alla liscia di Fano un centauro di 22 anni di Mondolfo è finito a terra dopo aver perso il controllo della moto a causa di un'auto che gli ha tagliato la strada il giovane è rimasto immobile le sue condizioni non sono gravi come era parso subito dopo l'incidente Tempo permettendo lunedì prossimo verranno eseguiti i lavori per un dragaggio d'emergenza dei fanghi del porto di Fano Promessa mantenuta dal sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina ha annunciato ufficialmente la realizzazione dei lavori del dragaggio di emergenza utili alla sistemazione dei fondali nel primo intervento che verrà eseguito lunedì prossimo verranno rimossi 2000 metri cubi di fanghi per rendere più sicura l'imboccatura Lo dico con orgoglio avevamo dato delle indicazioni abbiamo realizzato un progetto di interventi per portare una soluzione strutturale al porto di Fano avevamo annunciato che entro il 20 maggio avremmo fatto un primo piccolo dragaggio io so benissimo che è un piccolo dragaggio ma consentirà di navigare in sicurezza e di utilizzare il porto per quello che riguarda i pescatori e per quello che riguarda il porto turistico e lo faremo lunedì 18 quindi abbiamo mantenuto l'impegno come stiamo mantenendo l'impegno su altri settori e cominciare dalla difesa della costa ma sappiamo benissimo che questo verrà seguito un altro dragaggio importante a fine estate dove i fanghi verranno sversati in mare e nello stesso tempo continuiamo il lavoro per quello che riguarda la cassa di Colmato Il primo cittadino nel ricordare la cifra di 760.000 euro assegnati dalla regione sui 2 milioni disponibili per i dragaggi ha ringraziato gli assessori Paola Giorgi e Pietro Marcolini per essersi adoperati affinché venissero riservate in assestamento di bilancio risorse sufficienti a garantire i lavori nei sei porti marchigiani Chi pensava che questa amministrazione non era in grado di portare a termine dei risultati questa è la mia risposta so benissimo che non è quella definitiva che richiederà altri sforzi richiederà anche di trovare altre risorse per completare tutto il percorso del porto ma questo è un buon risultato e di cui rivendico la paternità E adesso la bandiera blu bandiera blu che sventolerà su tutta la costa ad eccezione del Lido e dell'Arzilla anche se non ci sono problemi di balneabilità Sappiamo benissimo che lascia il tempo che trova la bandiera blu questa decisione mi sembra un po' alquanto bizzarra Inizierà ufficialmente il 23 e 24 maggio prossimo la stagione balneare al Lido 1 di Fano ma quest'anno nella spiaggia non sventolerà la bandiera blu perplesso della situazione il gestore Matteo Cecconi Fa riflettere il fatto che possano dare la bandiera blu a una città come Fano mettendo dei distingui Alla fine se ci sono dei criteri che non vengono temperati in maniera sufficiente per poter ottenere la bandiera blu la logica mi impone di pensare che dovrebbe essere tolta a Fano in toto ti viene sbattuta in faccia ma che ti pone delle riflessioni anche perché in questo modo alla fine vengono colpiti degli esercizi magari commerciali in maniera proprio quasi buona non lo so insomma si faranno delle valutazioni adesso vedremo Stesse condizioni all'Arzilla dove l'anno scorso ci sono stati diversi problemi di balneazione Ancora ufficialmente non ci hanno comunicato niente della bandiera blu e di blu abbiamo la piscina che stiamo costruendo per quest'estate 2015 che si prevede calda, abbastanza calda A tranquillizzare bagnini e turisti è l'assessore al turismo Stefano Marchegiani il vice sindaco ribadisce che non c'è nessun divieto di bagnazione per i tratti del litorale fanese Innanzitutto vorrei precisare che la bandiera blu è un riconoscimento di eccellenza quindi dobbiamo essere molto contenti che la stragrande maggioranza del litorale nostro conferma la bandiera blu Il Lido ha un'acqua buona quindi non si è detto ma non c'è la bandiera blu in Lido La bandiera blu c'è con acqua eccellente Il Lido quest'anno con le grandi mareggiate e le piogge soprattutto nel periodo estivo ha un'acqua buona quindi nulla di male insomma è una spiaggia assolutamente balneabile come tutte quelle di Fano abbiamo dei punti un pochino più negativi che è la foce dell'Arzilla e quindi questi punti un pezzettino di foce del Metauro e la foce dell'Arzilla con il Lido che è adiacente sfugge dalla bandiera blu ma tutte le spiagge sono balneabili volevo tranquillizzare che non si spargesse con strane parole d'ordine che farebbero del male al turismo di Fano non è così uno si può tranquillamente bagnare in tutte le acque di Fano cercheremo noi in futuro di risolvere quei problemi annosi e strutturali dell'Arzilla in particolare con una vasca di laminazione che va fatta perché quando piove tanto gli scolmatori tracimano e in quei giorni i prelievi ovviamente non sono molto favorevoli ai fini della bandiera blu ma assolutamente grande tranquillità per il normale bagno A Cartoceto ci si prepara per la festa del Santo Patrono domenica 17 maggio alle ore 10.30 dalle 10.30 alle 20 mercatino del riuso stand gastronomici spettacolo di marionette giochi per tutti mercoledì 20 maggio invece dalle 20.30 Santa Messa tradizionale processione con prediche in piazza e concerto finale della banda comunale Prosegue la campagna elettorale dei candidati alle regionali del 31 maggio Renato Claudio Minardi del Partito Democratico ha incontrato circa 300 tra simpatizzanti ed elettori in un incontro conviviale nel quale ha parlato anche di agricoltura gli agricoltori devono tornare a produrre grano e non carta per la burocrazia regionale ha spiegato Minardi i fondi comunitari dovranno essere impiegati anche per l'agricoltura del nostro territorio mentre chiederò di snellire e semplificare l'accesso ai 1.200 milioni di euro che l'Europa metterà complessivamente a disposizione delle marche in modo da favorire e incentivare il piano di sviluppo rurale e aiutare così gli agricoltori ad investire e l'euro parlamentare del Partito Democratico Simona Bonafè sarà al Pino Bar di Fano questo sabato dalle 17.30 per un incontro aperto al pubblico insieme al candidato governatore delle marche Luca Ceriscioli e alla squadra di candidati consiglieri del PD in regione questa mattina l'assessore al turismo Stefano Marcheggiani ha presentato il nuovo video del turistico della città di Fano vediamolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Fano città di epoca romana città da visitare Fano città d'arte di mare città di eventi Fano città per tutti queste le immagini scelte per il video realizzato dal comune ad un costo di 2000 euro per la presentazione della città della fortuna i monumenti, le chiese, il porto turistico e i principali eventi come il carnevale il festival del brodetto riescono a mostrare in poco più di un minuto la storia, le bellezze e le tipicità del territorio C'è stato richiesto la regione Marche per i siti di Expo 2015 quindi sarà proiettato a Milano alla Data e a tutti i luoghi dove promuoviamo la nostra città città d'arte e di turismo in modo molto efficace perché sono video veloci che danno informazione in generale sulla regione Marche ma sulle località più note insomma e quindi noi facciamo la nostra parte Dove potrà essere visionato? Innanzitutto questo è un video che già gira su YouTube sui siti del comune lo metteremo a disposizione dello IAT dell'Ufficio Informazioni Turistiche quindi anche in piazza da monitor scorrerà unitamente a quello fatto per il carnevale comincerà con un'immagine di Fano più forte incisiva come città molto bella da vedere come stanno vedendo i turisti di Rastad questi giorni in giro per la città vedo che stanno facendo tante foto Oggi è passata la miglia e miglia vi lascio con le immagini grazie per aver seguito Occhia la Notizia arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti